Benvenuti, appassionati di mistero e avventura. Oggi ci attende un viaggio emozionante mentre esploriamo 5 dei più affascinanti enigmi della storia, svelando segreti sepolti nei secoli. Preparatevi a scoprire i misteri intricati dei celebri cerchi nel grano, degli enigmatici muai dell'isola di Pasqua, delle enigmatiche linee di Nazca, della misteriosa piramide di Yonaguni e dei sorprendenti segreti di Stonehenge. Viaggeremo in luoghi remoti, esplorando antiche culture e rivelando scoperte subacque straordinarie. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. E non dimenticate di fare l'iscrizione al canale, e mettere mi piace. I cerchi nel grano sono disegni enigmatici e complessi che compaiono nei campi coltivati, soprattutto nei campi di grano, ma anche in altri cereali come il mais e la pena. Questi cerchi si presentano come motivi geometrici regolari o irregolari, spesso di grandi dimensioni, che sembrano essere apparsi improvvisamente durante la notte o in breve tempo. I cerchi nel grano sono stati oggetto di grande interesse da parte della comunità scientifica, degli appassionati di misteri e dell'opinione pubblica in generale, poiché la loro origine è stata oggetto di dibattito e speculazione per molti anni. Caratteristiche dei cerchi nel grano Precisione geometrica I cerchi nel grano sono spesso caratterizzati da disegni altamente precisi e complessi, con forme geometriche come cerchi, anelli concentrici, spirali e forme simetriche. Piegature delle piante Le piante all'interno dei cerchi sembrano essere piegate a terra in modo uniforme e ordinato, senza segni di danneggiamento o rottura. Aree colpite I cerchi nel grano possono apparire in piccoli gruppi o anche in grandi formazioni che coprono le stesse superfici dei campi. Strani schemi di nodi All'interno dei cerchi, le piante mostrano spesso schemi di nodi o intrecci insoliti. L'origine dei cerchi nel grano è stata oggetto di varie teorie, tra cui Spiegazioni naturali Alcuni scienziati hanno suggerito che i cerchi nel grano potrebbero essere causati da fenomeni naturali come vento, turbini, fulmini o altre forze meteorologiche che piegano le piante in modo ordinato. Attività umana Alcuni cerchi nel grano sono stati dimostrati essere opere umane, realizzate da gruppi di artisti o truffatori. Utilizzando semplici strumenti e tecniche, gli artisti possono creare disegni elaborati che possono sembrare autentici. Ipotesi ufologiche Un'altra teoria affascinante sostiene che i cerchi nel grano potrebbero essere il risultato di attività extraterrestri. Secondo queste ipotesi, gli UFO potrebbero essere coinvolti nella creazione di alcuni cerchi, usando tecnologie sconosciute. Effetti elettromagnetici Alcuni ricercatori hanno suggerito che i cerchi nel grano potrebbero essere il risultato di campi elettromagnetici o altre forze energetiche ancora sconosciute. È importante sottolineare che la maggior parte dei cerchi nel grano è stata dimostrata essere di origine umana o causata da fenomeni naturali, ma alcuni casi rimangono inspiegabili e hanno alimentato il mistero e l'interesse attorno a questo fenomeno. I Moai, sono delle imponenti statue monolitiche, rappresentanti figure umane stilizzate, che si trovano sull'isola di Pasqua, situata a circa 3.700 chilometri a ovest della costa del Cile, nell'oceano Pacifico. L'isola è una delle aree più remote e isolate del mondo, eppure le sue enigmatiche statue attirano l'attenzione e l'interesse di persone provenienti da ogni angolo del pianeta. I Moai sono scolpiti da grandi blocchi di tuffo vulcanico estratto dalle cave dell'isola. La maggior parte di essi ha dimensioni che variano da 4 a 10 metri di altezza, ma ci sono anche alcuni Moai ancora più grandi, raggiungendo anche i 20 metri. Le teste sono generalmente sovradimensionate rispetto al corpo, e i tratti del volto sono stilizzati, con grandi occhi e naso allungato. La scultura dei Moai era un processo complesso e richiedeva l'intervento di numerosi artigiani e lavoratori. Dopo essere stati scolpiti nelle cave, i Moai venivano trasportati su slittini lungo le piste di pietra fino alla loro posizione finale. La maggior parte dei Moai era collocata lungo la costa dell'isola, guardando verso l'interno dell'isola, a presidio delle comunità o per onorare importanti capi tribù e antenati. Il significato esatto dei Moai per la cultura Rapa Nui è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Tuttavia, si ritiene generalmente che queste statue rappresentassero antenati divinizzati o importanti capi tribù, fungendo da simboli del loro prestigio e del loro potere. I Rapa Nui credono che queste statue fossero in qualche modo connesse con il mondo degli spiriti e avevano un ruolo importante nelle loro cerimonie e pratiche religiose. Verso il XVII secolo, la costruzione dei Moai cessò e l'isola entrò in un periodo di declino sociale ed ecologico. Si ritiene che la rapida deforestazione, causata principalmente dalla necessità di risorse per trasportare le statue, abbia avuto un impatto significativo sull'ecosistema locale. Questo ha portato a carenze di risorse, conflitti e alla distruzione di molti Moai. Alcune statue vennero abbattute durante periodi di instabilità e rivalità tra le tribù dell'isola. Nel corso del tempo, diversi progetti di restauro e conservazione sono stati intrapresi per preservare i Moai rimasti sull'isola. Grazie agli sforzi congiunti delle autorità locali e degli studiosi, molti Moai sono stati ripristinati alle loro posizioni originali, consentendo ai visitatori di ammirarli in tutto il loro splendore. I Moai dell'isola di Pasqua continuano a essere una testimonianza affascinante della storia, della cultura e dell'abilità del popolo Rapa Nui. Ogni anno, migliaia di persone viaggiano fino a questo remoto angolo del mondo per ammirare questi antichi guardiani di pietra e scoprire i segreti che li circondano. Le linee di Nazca, sono un complesso di geolifi situati nel deserto di Nazca, nella regione meridionale del Peru. Queste enigmatiche linee e disegni sono stati creati dalla cultura Nazca, un antico popolo che ha vissuto nell'area tra il 200 avanti Cristo e il 600 dopo Cristo. Le linee di Nazca, consistono principalmente in linee lunghe e diritte, ma ci sono anche figure zoomorfe, fitomorfe e antropomorfe, rappresentazioni di animali, piante e figure umane. Questi disegni sono stati realizzati rimuovendo il livello superiore del terreno, lasciando esposto il suolo più chiaro e sottostante, che contrasta con il terreno circostante di colore più scuro. Le linee coprono un'area di circa 450 chilometri quadrati e sono distribuite su una vasta pianura del deserto. La loro grandezza varia da pochi metri a diverse centinaia di metri. Molte delle figure sono così grandi che possono essere viste solo dall'alto, il che ha portato a teorie e speculazioni sulla loro funzione e sul modo in cui la cultura Nazca ha potuto crearle senza la possibilità di vedere il risultato finale dall'alto. Le teorie sulle linee di Nazca sono numerose e spaziano dalla funzione astronomica e calendario, alla pratica religiosa e culturale, fino a teorie più speculative riguardanti presunte piste di atterraggio per antichi astronauti. Tuttavia, molti studiosi ritengono che queste linee avessero principalmente un significato culturale e simbolico per la civiltà Nazca e potrebbero essere state utilizzate per scopi cerimoniali, religiosi o astronomici. Le linee di Nazca, sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1994, e attirano molti visitatori e ricercatori interessati a scoprire il loro mistero e significato storico. Tuttavia, a causa dell'afflusso turistico e di altri fattori ambientali, alcune delle linee sono a rischio di deterioramento e degrado, rendendo importante la loro conservazione e protezione. La piramide di Yonagoni, o struttura di Yonagoni, è stata una controversa formazione sottomarina, situata a largo delle coste dell'isola di Yonagoni, nella prefettura di Okinawa, in Giappone. La struttura è stata scoperta negli anni Ottanta, dall'immersionista Kiyakiru Aratake, e successivamente studiata dall'archeologo marino, Masaki Kimura. Alcuni sostengono che sia una struttura artificiale creata dall'uomo, possibilmente una piramide o un tempio sommerso, datata migliaia di anni fa, mentre altri scienziati, ritengono che sia il risultato di fenomeni naturali di erosione e fratturazione della roccia. I sostenitori dell'origine artificiale della struttura, hanno ipotizzato che potrebbe essere stata costruita da una civiltà antica scomparsa, ma non vi è ancora alcuna prova definitiva che lo confermi. Le caratteristiche della struttura, come le terrazze piatte, le angolazioni rette e i gradini, hanno portato alcuni, a paragonarla a strutture archeologiche fatte dall'uomo in altre parti del mondo. La struttura copre un'area di circa 300 metri di lunghezza, e 27 metri di altezza. La formazione presenta terrazze piatte, angoli retti e gradini, che sembrano suggerire un possibile intervento umano nella sua creazione. La struttura è composta principalmente da strati di rocce sedimentari e tuface, che hanno subito processi di erosione e fratturazione nel corso del tempo. Tuttavia, la controversia su Yonaguni, è ancora aperta e sono necessarie ulteriori ricerche e indagini per stabilire con certezza l'origine, e la natura di questa misteriosa struttura. Stonehenge, è un antico monumento situato in Inghilterra, precisamente nel Wiltshire, a circa 13 chilometri a nord di Salisbury. È uno dei siti preistorici più famosi e enigmatici al mondo. Questo monumento megalitico è composto da grandi pietre erette in cerchi concentrici, ed è stato costruito in diverse fasi tra il Neolitico, circa 3000 avanti Cristo, e l'età del Bronzo, circa fra il 2000 e il 1500 avanti Cristo. Le pietre di Stonehenge, sono di due tipi principali, le pietre sarsen, grandi monoliti di arenaria, e le pietre bluestone, più piccole e di colore bluastro. La loro provenienza è stata oggetto di studi e dibattiti da parte degli archeologi. Le ragioni per cui Stonehenge fu costruito, non sono completamente comprese, ma si ritiene che sia stato utilizzato per scopi cerimoniali o religiosi, oltre che come osservatorio astronomico per tracciare i solstizi e gli equinozi. La precisione dell'allineamento delle pietre con il movimento del sole suggerisce un forte legame con il calendario e le festività dell'epoca. Stonehenge è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO nel 1986 ed è diventato un'attrazione turistica molto popolare. Ogni anno, migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo si reccano a Stonehenge per ammirare questo misterioso e affascinante monumento preistorico e per cercare di comprendere il suo significato e la sua storia. E qui concludiamo questa straordinaria avventura nei 5 enigmi leggendari che continuano a affascinare il mondo. Spero che abbiate apprezzato questa immersione nel regno dell'ignoto e che siate ancora più affascinati dei segreti che il nostro pianeta custodisce. Se questo viaggio vi ha appassionato, ricordatevi di lasciare un like e condividere il video con i vostri amici. E se conoscete altri enigmi da esplorare, non esitate a condividerli nei commenti qui sotto. Ci vediamo presto con altre affascinanti scoperte. Alla prossima avventura misteriosa. Grazie per aver visto il video, se è stato di tuo gradimento metti mi piace ed iscriviti al canale.